Teatro Comunale Giuseppe Verdi gremito a Pordenone per lo spettacolo Ritorno alla vita, tratto da il libro della Shoah italiana di Marcello Pezzetti, con una dedica a Primo Levi. La rappresentazione, andata in scena mercoledì 1 febbraio, ha visto sul palco gli studenti del Liceo Leopardi Majorana, con canti e musiche dal vivo a cura della Scuola Media Lozzer. Si tratta di una delle iniziative programmate dall'amministrazione comunale di Pordenone per celebrare il giorno della memoria. Ha introdotto la serata l'assessore comunale all'istruzione Chiara Mio. Questa giornata è stata istituita e celebrata in questo comune sette anni fa ed è un evento molto importante in chiave non solo educativa ma anche storica. Per questo il comune e questa amministrazione in continuità decide appunto ogni anno di rendere protagonisti i ragazzi, sia facendo loro capire l'importanza dell'evento, sia invitandoli a costruire l'evento attraverso uno spettacolo. Tra gli organizzatori dell'iniziativa il consigliere comunale Gian Antonio Collaoni. Come ogni anno la giornata della memoria è un momento importante nell'attività culturale ed educativa dell'amministrazione comunale. Abbiamo tratto il testo da un libro molto importante che è uscito due anni fa, il libro della Shoah italiana. Sono testimonianze, testimonianze di tutte le fasi, dalla deportazione fino alla distruzione appunto degli ebrei italiani ad Auschwitz. Ed è un testo molto impegnativo anche molto toccante. Noi vogliamo che il pubblico, in particolare gli studenti, ma questa sera un pubblico più generale, fatto di spettatori interessati, di cittadini coinvolti, si emozioni, si coinvolga. Noi crediamo che questo sia il modo migliore perché resti un segno al di là appunto delle celebrazioni. È importante che ci sia proprio un segnale che queste cose non vanno assolutamente dimenticate. Grazie a tutti.